ecco perché ti fa un bagnetto ma ora che non stai registrando si sta registrando non ho sentito il suono ragazzi guardate guardate quante meduse sono tutte meduse è sconvolgente solo in televisione se cadete qui dentro vi friggete in tutti i sensi mamma mia a me sembra tipo sporca a me c'è un ripeto che non si vede bene tutte queste costa bianca che vedete sono tutte meduse c'è la concentrazione assurda poi sono bianche trasparenti vabbè ciao